Il sequestro del cantiere del Tenda Bis ha ripercussioni anche sui lavoratori che stavano operando sul raddoppio del tunnel di Tenda. Qual è la situazione? Subito dopo le notizie apprese, noi abbiamo fatto la prima cosa, abbiamo chiesto un incontro urgente all'ANAS che è l'ente committente. Domani ci incontreremo con i vertici dell'azienda perché nel rispetto delle indagini noi vorremmo capire quando ripartono i lavori e quando possono ripartire i lavoratori per finire l'opera. Quanti sono i lavoratori? Tra i lavoratori della Fincosit e i lavoratori subappalto sono una settantina, quindi la nostra priorità oggi è quella di capire un po' l'evolversi e non vorremmo che alla fine questa situazione cada sull'occupazione. Che clima si respira oggi tra i lavoratori? C'è un po' di paura, un po' di tensione? È chiaro che il clima e la tensione dei lavoratori ha le stelle, quindi noi faremo di tutto. La preoccupazione dei lavoratori in primis è di non perdere il posto di lavoro. Quello lo sentiremo e lo faremo domani con l'azienda, anche perché l'azienda, se il cantiere è chiuso e non sa quali saranno le condizioni, quando potrà riaprire dovremmo capire che fine faranno i lavoratori. Ci sono anche degli operai coinvolti in questa storia? Degli operai coinvolti non ne voglio assolutamente discutere perché ci sono le indagini in corso e è giusto che le indagini continuano. Grazie